Danilo Martelli la capolista del girone a il Mantova reduce da sei vittorie di fila e dalla Roboante vittoria nello scontro diretto con il Padova ospita l'Arzignano Valchiampo che invece viene da cinque risultati utili consecutivi e da due pareggi esterni entrambi per zero a zero e vuole continuare il suo percorso la prima occasione però è per i padroni di casa con Salvatore Burrai che calcia da fuori un tiro però centrale del capitano dei Biancorossi è parato facilmente da Bose già all'undicesimo minuto l'occasione forse più grande del primo tempo dell'Arzignano con la botta di Parigi su questa occasione su questa azione da calcio di punizione che prende però solo l'esterno della rete allora il Mantova comincia a fare sul serio Bragantini trova Mensa che trova Rimorchio Muroni che piazza il destro che finisce però di poco fuori alla destra di Boseggia poi Galuppini con il tacco per Trimboli appoggia per Maggioni dentro per Mensa che non ci arriva dall'altro lato Davi la mette in corner ma grandissima occasione questa per la squadra Lombarda che continua ad insistere e qui ci prova con questa conclusione da fuori di Trimboli che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta lo specchio della porta lo trova e come Galuppini su questo calcio d'angolo perché il pallone torna a Burrai il colpo di testa di Lunghi che trova Francesco Galuppini decimo gol in campionato il quinto nelle ultime cinque partite che lo porta per il quinto anno di fila in doppia cifra è un gol da rapinatore d'area di rigore con il destro che in realtà sarebbe il suo piede debole batte il cinque al palo fa uno a zero al trentottesimo minuto per il Mantua un cinque anche a Possanzini ancora la squadra di Possanzini che ci prova di nuovo con il destro di Mattia Muroni che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta nella ripresa sempre Muroni per Galuppini che invuca per l'inserimento del terzino Maggioni che la mette dentro palla che attraversa tutta l'area piccola ma non trova compagni allora comincia a salire l'offensiva dell'Arsignano Valchiampo che troverebbe anche il gol del pareggio ma Grandolfo sulla girata di Parigi era in posizione irregolare dunque gol annullato al settantacinquesimo minuto di gioco il manto va dunque prova a chiuderla ma Brignani in precario equilibrio non riesce a buttare dentro il corner battuto dal suo capitano il gol dell'Arsignano era solo però rimandato perché arriva su questa bellissima palla di bordo entrato dalla panchina il cross di Bernardi anche lui entrato dalla panchina la parata di festa su Parigi il fallo su Davi ma mette tutti d'accordo Herald Lacti che fa la seconda trasformazione del suo campionato dopo il gol in casa contro la Provercelli punisce il manto va a domicilio fa uno a uno è un gol bellissimo del centrocampista italo albanese qui la conclusione di Jack Parigi la parata di festa bravo e fortunato col ginocchio l'irregolarità di bombaggi su Davi ma soprattutto la botta di Herald Lacti ci prova ancora però il mantova che vuole riuscire a trovare la settima vittoria consecutiva arriva il cross con il controllo però di mano di Giacomelli che poi calcia in maniera troppo debole e centrale l'ultima emozione di questa partita che termina uno a uno